buongiorno allora ragazzi oggi si conferma la tradizione con ormai da anni di concludere il corso comunque suggellare la termine del corso con la presenza di un notissimo studioso e e tocca a me per i capelli bianchi sempre presentarlo quindi avere l'imbarcio di doverlo presentare ma una rappresentazione di colleghi che hanno una caratteristica hanno una fama che li precede e allora io posso dire soltanto molto poco perché comunque sarà riduttivo solo ad uso al mio ricordo non nemmeno per gli studenti il professor Vandelli è uno studioso di diritto amministrativo ma soprattutto è uno dei più attenti studiosi del diritto delle autonomie locali sia italiane che straniere ha un numero ha prodotto moltissime pubblicazioni sia sull'ordinamento italiano quanto sull'ordinamento straniero ha ricevuto moltissimi premi membro di moltissimi comitati scientifici ha avuto incarichi anche politici perché allora allo studio delle autonomie locali ha anche associato penso un minimo di passione politica che gli ha consentito di sopportare di essere titolare di cariche amministrative di assessori alla regione di assessore al comune di Bologna e quindi evidentemente la passione politica la passione per lo studio era tale da tollerare anche di bere comunque dei bicchieri certe volte amari quando si svolge attività amministrativa non conosco le vicende della sua attività ma possiamo intuirlo tutti oggi da profondo studio ci offrirà una lezione di diritto amministrativo e diritto pubblico con un approccio del tutto singolare ma che singolare non è io vi abbiamo già anticipato io almeno i miei studenti, i miei pochi studenti ma penso anche il professor Cortese ha anticipato a grandirini il tema della lezione magistralis e vi voglio subito far riflettere su un qualcosa che questo approccio che può essere singolare letteratura e amministrazione, poi adesso ne sentiremo i contenuti è ovviamente il frutto non di valutazioni estemporanei o di studi approssimativi ma di profondi studi che hanno condotto il professor Vandelli anche a pubblicare una monografia sul tema oltre che vari saggi ma questo approccio non è un approccio poi tanto singolare perché non dimenticatevi, io questo lo dico sempre ai miei studenti ma lo dirà pure il professor Cortese quando si parla di diritto e non solo di diritto amministrativo o di amministrazione il diritto non è soltanto qualcosa al quale ci si approccia come un meccanico che anziché avere i cacciavite e la pinza ha i criteri ermeneutici da utilizzare il diritto si può vedere anche dall'esterno e quando lo si guarda dall'esterno il diritto è un sistema di segni secondo i filosofi, è un sistema di controllo sociale è qualcosa che vive nella realtà e quindi impatta sulla realtà ma è dalla stessa influenzato e influenza le vite delle persone quindi non è anormale che il diritto o parte di esso possa essere stato rispecchiato in studi artistici, in studi letterari i letterati hanno subito l'influenza del diritto e dell'amministrazione ma i letterati hanno anche scattato delle istantanee dell'amministrazione, della burocrazia e soprattutto nel scattare queste istantanee hanno colto elementi delle profonde e repentine modificazioni che negli ultimi cento anni, centocinquant'anni l'apparato burocratico che vive prepotentemente nelle nostre realtà lo stato di diritto e di diritto amministrativo hanno determinato per cui adesso io ho completato la mia presentazione dei miei pochi minuti e cedo subito la parola al professor Vandelli che ringrazio sin d'ora un'altra precisazione organizzativa, due precisazioni organizzative la prima, non è a fianco a me il professor Cortese, mi siete accorti tutti ha avuto un impegno improvviso, rassicuro i suoi studenti domani concluderà il corso, lui personalmente la seconda cosa possiamo fare così come si fa normalmente a lezione iniziamo con la prima frazione di tre quarti d'ora e poi facciamo un intervallo e riprenderemo successivamente Grazie molto Damiano, grazie ai colleghi trentini per l'invito molto gradito perché era un po' che non tornavo a Trento e ritorno molto volentieri per farvi un discorso un po' atipico come vi ha anticipato in questo periodo sto occupandomi come sempre di riforme amministrative semplificazioni, autonomie però ho preferito provare a darvi una prospettiva diversa guardare alle istituzioni e all'amministrazione nella sua consistenza storica nel suo ruolo sociale nella trasformazione che ha comportato particolarmente negli ultimi due secoli seguendo testimoni particolarissimi testimoni molto autorevoli ma che sono normalmente considerati tali prestigiosi, notissimi come vedrete lasciando a lato il fatto che la gran parte di essi lavorava in pubblici uffici e lavorando in pubblici uffici ci hanno dato una testimonianza puntuale, preziosa talora addirittura maniacale della nascita della vita quotidiana dell'apparati amministrativi dell'impatto che ebbero nella grande trasformazione a partire dall'inizio dell'Ottocento e io seguirò particolarmente dei difetti della pubblica amministrazione che loro già evidenziano con grande chiarezza questi testimoni per capirci si chiamano Stendhal Henry Bale uditore al Consiglio di Stato prima poi in una lunga carriera console finirà console a Cività Vecchia Maupassant modestissimo impiegato al Ministero della Marina poi passato al Ministero dell'Istruzione di Maupassant vi accenno soltanto a una delle sue note di qualifiche coscienzioso ma non sa scrivere che era probabilmente un'annotazione vera nel senso che scriveva in un modo che alla burocrazia piaceva poco diciamo tutti hanno delle particolari attitudini verso il pubblico di impiego Stendhal è ossessionato dall'idea di andare in pensione vorrebbe fare lo scrittore ma vuole andare in pensione quindi continua a stare nella orrida Cività Vecchia orrida perché all'epoca c'era la malaria era la terra di nessuno non c'era niente lui era un amante dell'arte un fantasioso gli toccava di stare in quei luoghi ma voleva la pensione ci spostiamo Puskin Puskin è al ministero degli esteri Puskin è un pubblico impiegato impresentabile grande spadaccino grande cavaliere pratica tutti gli sport tutte le donne possibili bordelli e sale da gioco fino a quando lo zar lo licenzia lo licenzia in realtà non per motivi di ufficio ma perché ha un rapporto con la moglie del superiore gerarchico che non è proprio la cosa più indicata però poi lo zar lo riassume più tardi Gogol modesto impiegato anche lui al ministero dell'economia poi passato ai beni culturali Dostoevsky cartografo pubblico arriveremo poi a Kafka ma potremo continuare l'elenco Hawthorne Melville fino a Borges eccetera eccetera nella contemporaneità basta pensare sempre sugli Stati Uniti a David Foster Wallace che nel suo ultimo romanzo ci dà una descrizione lunghissima della vita di ufficio in questo caso dell'agenzia delle entrate americane ma veniamo all' inizio all'inizio di questa storia siamo riduci immaginatevi un'Europa devastata dalle guerre le guerre di Napoleone quattro milioni di morti eserciti potenti un'impegno di tutta la società su un piano su un piano militare eccetera rapidamente questo turbinio si trasforma in un meccanismo regolare alle rutilanti divise dei militari si sostituisce un altro esercito che è l'esercito dei pubblici impiegati che è una novità radicale cioè guardate che le tre storie l'avvento della borghesia l'avvento del grande romanzo moderno l'avvento dell'amministrazione coincidono si sovrappongono nelle stesse figure Balzac che è una fonte storica straordinaria addirittura veniva criticato perché si diceva che era più storico che non romanziere Balzac si dice che già pochi anni dopo la fine di Napoleone a Parigi ci sono 40.000 impiegati che vuol dire un corpo ormai davvero robusto e lui lo dice le armate burocratiche sostituiscono gli eserciti si afferma la burocrazia potere gigantesco messo in mano a Nani è un esercito in grisaglia con la marsina tutto quindi compare cambia persino la moda il modo di vestirsi compare il grigio il nero lo si vede nella pittura appunto nella storia della moda un esercito formato da auditori del Consiglio di Stato da referentari della Corte dei Conti da soprannumerari dei ministeri è una trasformazione davvero un cambiamento da così a così insomma fino a pochi anni prima immaginatevi una società di aristocrazia in cui le cariche pubbliche o si ereditavano o si compravano la professionalità nelle istituzioni pubbliche non era una cosa conosciuta non esisteva una competenza specifica a seconda del Casato a seconda del Rango si assumevano le funzioni pubbliche questa aristocrazia scompare o si trasforma già il codice Napoleone ha affermato il codice civile che però si occupa anche di problemi che oggi non consideriamo di diritto civile ha consentito a tutti l'accesso a tutti i pubblici impieghi e l'accesso avviene per concorso per selezioni che suppongono una competenza il fenomeno è rapido e attraversa l'intera Europa come accennavo potenti burocrazie nascono burocrazie professionali nascono in Francia sicuramente ma in Russia in Russia in in Prussia eccetera si crea una nuova struttura del Stato si crea una nuova struttura sociale si crea una nuova cultura delle istituzioni naturalmente l'Italia è pienamente coinvolta in questo fenomeno dunque di questa novità di questo enorme cambiamento emergono presto anche i difetti e io seguirò il filone diciamo i peccati della pubblica amministrazione e ne dà una descrizione puntualissima partiamo dal primo dei difetti la mediocrità il servilismo l'incapacità di valorizzare le competenze e il merito notate che questa è già una novità in sé perché prima non si pensava particolarmente che il nobile che aveva ereditato la carica dovesse avere una competenza adesso ci si aspetta una competenza e si rimprovera ai funzionari pubblici se non ce l'hanno di questo servilismo di questo inchinarsi di fronte al potere politico ci dà qualche cognizione molto precisa Balzac particolarmente nel come sapete dunque l'opera di Balzac è sterminata sul 97 non mi ricordo romanzi che finiscono tutti nella commedia in men tra questi ce n'è uno che si chiama gli impiegati gli impiegati viene pubblicato vi pensate come figlieton cioè sarebbe come una serie oggi ogni settimana la gente aspetta l'uscita della puntata per vedere cosa è successo ai vari personaggi e è lo suo il suo strumento per contrastare i moschettieri di Dumas che hanno grande interesse che all'epoca sollevano grande attenzione quindi impiegati contro moschettieri ed effettivamente ottiene un esito tutt'altro che indifferente con questo figlieton che poi raccoglierà nel romanzo gli impiegati dove a condizionare tutta la vicenda c'è proprio un personaggio che lui chiama Delupol femme de menage du pouvoir servo del potere c'è proprio l'alto funzionario asservito alla politica di cui lui dà una descrizione perfidamente precisa di questo personaggio noi sappiamo almeno si suppone anche il nome vero cioè Balzac si ispirava sempre nelle sue figure a personaggi realmente esistenti ma poi cambiava il nome tuttora esiste un filone di ricerca che si esprime in una pubblicazione annuale la Ney Balzacien in cui ci sono eminenti studiosi che si dedicano a ricostruire le figure dell'epoca per capire chi fossero quindi sappiamo con qualche margine chi era questo personaggio il quale effettivamente si aggancia a un potere politico che sta dominando in maniera appunto servile pur di ottenere i suoi scopi e i suoi scopi sono ovviamente fare una carriera che di rivol non ha particolare titolo per sviluppare ma che può ben crescere grazie al suo doti di manovra nel mondo del potere parigino il suo problema è evitare la crescita di un funzionario che al contrario è competente meritevole di grande visione cioè un figura che ha una idea precisa delle istituzioni e del modo in cui affrontare la loro riforma la cosa interessante è che questo personaggio elabora un piano di riforme che Balzac ci racconta in maniera dettagliatissima siamo nel 1824 nel romanzo poi viene pubblicato qualche anno dopo vi cito soltanto le teste di capitolo di questa riforma appunto descritta molto precisamente sul piano dell'organizzazione ridurre il numero dei ministeri con accorpamenti se è già stato fatto in Austria possiamo farlo anche noi ottenendo risultati di efficienza notevole secondo sopprimere gli enti inutili sopprimere le amministrazioni che sono ormai non più rispondenti a interessi pubblici visibili riunire le funzioni affine spesso troppo disperse tra i vari ministeri privatizzare le imprese pubbliche i tabacchi la produzione di polvere da sparo eccetera secondo capitoli personale ridurre il numero dei pubblici impiegati ma raddoppiare gli stipendi la considerazione sociale deve essere elevata nei confronti delle funzioni pubbliche deve essere una funzione di prestigio e dunque va accompagnata da adeguata retribuzione terzo valorizzare i giovani anche nelle cariche importanti arruolarli e selezionarli esclusivamente in base al merito poi c'è un piano che riguarda le funzioni le finanze eliminare i costi delle esazioni imposte basate sulla ricchezza e quindi colpire la ricchezza e non tormentare il povero e così via vi accendo soltanto le teste ma insomma sembrano le riforme Bassanini ecco grosso modo con qualche differenza la storia finisce ovviamente a favore del maligno De Rupelot che riesce a mettere in cattiva la luce Rabourdain presse ministro fino a quando Rabourdain si dimette è costretto alle dimissioni sostanzialmente però diciamo se la cava sulla base di un fenomeno tipicamente francese tuttora tuttora importante che è il pantouflage cosiddetto cioè Rabourdain passa dal settore pubblico al settore privato dove viene accettato come un alto dirigente di grande competenze di grande utilità secondo difetto che viene marcato dal scusate questi erano i vari personaggi quindi Stendhal i personaggi che vi citavo prima come vedete li ho affiancati a qualche opera significativa e scrivendo sotto il ministero a cui apparteneva tra l'altro è curioso perché qual è la reazione del scrittore quindi del di colui che è abituato a usare la fantasia nella sua narrazione nel pubblico impiego come si collegano i due fatti beh grosso modo gli orientamenti sono due quelli che viaggiano totalmente al di fuori per altri mondi pensate che Bram Stoker l'inventore l'inventore di Dracula è lavori in una cancelleria di tribunale Hoffman giudice tra le tre prima cancelliere poi giudice anche lui tutta fantasia oscurità incubi racconti eccetera e invece ce ne sono tanti che dal loro lavoro quotidiano dalla loro conoscenza dei pubblici uffici ne fanno una occasione di narrazione cioè ci raccontano cosa succede negli uffici e fanno degli apparati pubblici della vita di ufficio un microcosmo che riproduce la vita sociale e questo è appunto Puskin Puskin arriva a immaginare il pubblico impiegatino nel Cavaliere di Bronzo c'è questo pubblico impiegato che ha l'incubo del grande costruttore dell'amministrazione russa che è Pietro il Grande che nel suo monumento di bronzo lo insegue col cavallo appunto creandogli degli incubi notturni che non che da cui non si non si libera questo è Gogol il cappotto qui siamo su Dostoevsky come vi dicevo tecnico ma anche il principe dei poeti maledetti Paul Verlaine Verlaine è un impiegatino comunale del comune di Parigi a metà tra fantasia e descrizione degli uffici qui abbiamo un impiegato di prefettura che è Collodi il quale oltre a produrre uno dei libri più tradotti e più letti nella storia in realtà lascia anche molti scritti di testimonianza degli uffici fiorentini tra l'altro molto interessanti perché è il momento dell'unificazione d'Italia è il momento in cui lui descrive questi apparati preunitari il Granducato di Toscana che in blocco passano al nuovo Stato Unitario e lui è anche molto ironico nei confronti di questi cambiamenti immediati di ideologia questo è Collodi ottimo funzionario Italo Svevo ecco questa è la copertina della prima edizione di quel romanzo che vi dicevo prima di Balzac che si chiamava La Femme Superieure perché parte dalla moglie di Rabourdain di questo funzionario che è al centro di questo Feuilleton ma veniamo al secondo dei peccati dell'amministrazione che emergono già con forza nell'Ottocento la complicazione la burocratizzazione la moltiplicazione di procedure e strutture inutili in una irrazionalità io ho preso un'immagine di Escher dove come sapete si sale si sale poi si ritrova sempre allo stesso punto qui cambiamo totalmente area e filone culturale partiamo parliamo di Dickens qui il testimonio che prendiamo è Dickens Dickens Little Dorit la piccola Dorit che è un romanzo del 1880 155 e in cui a un certo punto compare un capitolo dedicato all'ufficio delle circonlocuzioni qualunque cosa ci fosse da fare dice Dickens l'ufficio era alla testa di tutti gli altri per scovare il modo di non farla lo scopo è non fare quindi è tutta una procedura la procedura rimanda sempre quindi diciamo l'amministrato viene ricevuto di gli viene spiegato qual è il procedimento che deve seguire per arrivare alla fase successiva la fase successiva prevede un nuovo procedimento e si va avanti all'infinito su questo piano poi le complicazioni circolocuzioni vabbè un maestro Kutlin e insomma cito soltanto un altro che è molto suggestivo Orwell 1984 scusate Orwell la fattoria degli animali piuttosto dunque nella fattoria degli animali detta in due parole che è una metafora sulla rivoluzione gli animali cacciano i fattori cacciano gli uomini della fattoria e prendono il governo della fattoria stessa e naturalmente si dividono i ruoli i cavalli fanno i lavori pesanti i cani fanno la polizia il ruolo di polizia eccetera poi ci sono i maiali i quali gestiscono l'amministrazione della fattoria in realtà nessuno degli altri animali sa cosa fanno però è un compito molto misterioso e importante che dà ad essi autorevolezza e potere e a proposito di circolocuzioni prendiamo la situazione straniante del castello di Kafka qui abbiamo il personaggio il protagonista Joseph K è un agrimensore chiamato dall'amministrazione del castello e arriva perché gli è arrivato una sorta di preassunzione cioè un invito ad assumere questo lavoro in tutto lo sviluppo del romanzo lui cerca di capire perché non lo assumono ma la realtà è che al fondo il castello non ha affatto bisogno di un'agrimensore ma gli spiegano i funzionali del castello l'organizzazione è senza errori e tuttavia è perfettamente irrazionale un'agrimensore non serve ma se è stato chiamato vuol dire che andava chiamato e restiamo su Kafka per parlare del terzo peccato dell'amministrazione l'oscurità la incomprensibilità il potere non comprensibile il labirinto di cui non si trova la via giusta incomprensibile irraggiungibile distante oscuro il castello rappresenta questa amministrazione è un'amministrazione misteriosa c'è una complessissima piramide c'è il castello poi sotto c'è il villaggio nel villaggio si vedono gli ausiliari qualche ausiliari subalterni gli usciri insomma a livelli più bassi ma poi man mano che si sale nella scala gerarchica i funzionari diventano inaccessibili fino al caposezione clam che è diventato un mito perché si dice che esista ma in realtà nessuno l'ha mai visto è là nel castello alcuni narrano di averlo visto per qualche istante ma istante bisogna basarsi su testimonianze su dicerie più sono in alto più sono in posizione di comando e più sono oscuri e incomprensibili restiamo su Kafka per una visione diversa dell'amministrazione perché l'amministrazione del processo non è distante non è che non voglia farsi in qualche modo accedere da cada il protagonista è un'amministrazione opprimente è un'amministrazione che soffoca l'amministrato è un'amministrazione che lo perseguita e lo perseguita con una pertinaccia che accompagnerà tutto il romanzo ci sono lì abbiamo anche il nucleo fondamentale della visione delle istituzioni che poi si ritroverà nella fantascienza in tutta la fantascienza in tutte le costruzioni fantastiche Ray Bradbury Fahrenheit 451 amministrazione oppressiva che perseguita Orwell 1984 dove addirittura ai pubblici poteri e qui c'è tutto un discorso sul linguaggio inventano una neolingua per nascondere la loro natura oppressiva tanto per avere un un solo esempio il ministero dove si pratica la tortura si chiama mini amor interessante che una visione totalmente diversa da Aldous Axley Axley è un importante scienziato darwiniano peraltro lui è parente di Darwin e nel suo il nuovo mondo ci dà un'amministrazione che controlla il pensiero che controlla puntualmente l'individuo e la società ma ben lontano dall'usare la tortura e dall'usare metodi violenti nel nuovo mondo il potere è molto efficace ma molto più sottile molto più allusivo molto più penetrante nella vita di ciascuno i due dibattono di questo e Axley dirà a Orwell guarda che la realtà sta dando ragione a me la società è penetrata da un potere soft da un potere che entra nella comunicazione entra nel modo di formarsi delle idee delle persone senza bisogno di mostrare violenza e oppressione visibile quinto peccato questa è la copertina di 1984 appunto inquietante con quell'occhio che osserva ogni movimento della società veniamo al quinto peccato la corruzione qui potremmo citare tanti autori ma prendiamo quello in cui la corruzione diventa più pura ed estesa questo è il revisore o l'ispettore generale a seconda delle traduzioni di Gogol lì già nella copertina vedete una serie di personaggi che attornano che attorniano un tizio che è arrivato in questa cittadina della Russia dove tutti ma dico tutti sono corrotti non c'è un'eccezione lui è come dire un vanaglorioso questo Cestakoff ma in realtà non è un mentitore non è è semplicemente uno che arriva in questa cittadina in un momento in cui tutti questi corrotti temono l'arrivo da San Pietro Bulgo di un ispettore generale quindi c'è questo clima di timore e lui senza chiedere nulla e senza il bisogno nemmeno di vantare titoli che non ha si vede offrire da qualcuno la casa da qualcuno il cibo da qualcuno la figlia da qualcuno dei soldi è stupito gode di questo grande beneficio è un equivoco ma non c'è bisogno di alimentarlo perché questi sono così corrotti che hanno tale paura tale timore che sono loro stessi a incentivare la sovrapposizione tra questo viaggiatore casuale e qualcuno che possa punire la loro corruzione riprende il tema della corruzione Gogol con l'altro suo grande romanzo le anime morte dove tra l'altro c'è un episodio un passo sul rapporto tra corruzione e decentramento lui dice a un certo punto c'è questo personaggio che gira anche qui per la steppa per la campagna russa e insomma deve si lamenta e dice ma insomma prima quando c'era tutto accentrato io davo 10 rubli a un funzionario ed ero a posto adesso c'è decentramento mi chiede un rublo ciascuno e alla fine ho speso 12 rubli e ho perso un mucchio di tempo tornando all' ispettore generale è interessantissimo Gogolo è anche un personaggio di un certo carattere di una certa grinta l'ispettore generale è un'opera teatrale che lui rappresenta davanti a un pubblico di San Pietroburgo diciamo elevato di classe dirigente eccetera e la storia è anche divertente è stato fatto anche qualche film comico e il protagonista Cestakov questo a un certo punto è rappresentato quest'attore punta mentre mentre la platea ride punta il dito rispetto sui presenti e dice di cosa ridete è di voi che state ridendo insomma la cosa non viene presa benissimo dagli altri funzionari lui si mette anche fa ed esistono edizioni anche in italiano in cui lui racconta di essersi mescolato alla folla che sta uscendo per raccontare le reazioni e le reazioni sono del tipo ma non è possibile è intollerabile possono anche dirci che un assessore di collegio che è un funzionario medio basso si è corrotto ma che lo sia un consigliere di stato proprio no e quindi c'è proprio un un ribellione ma restando sempre in in Russia un altro flash lo dà Chekhov Chekhov a un certo punto ci descrive la cerimonia di pensionamento di un alto funzionario e viene dato il compito di celebrarlo al suo successore più giovane il quale fa un discorso molto retorico in cui celebra nell'alto funzionario il disinteresse e l'onestà quando celebra dice la parola onestà scoppia una risata generale ridono tutti tranne il celebrato il quale si offende dice come fa fare la figura del fesso insomma tutti i corrotti sono anche i funzionari del castello di Kafka così come i funzionari del processo gli spiega un spiega Joseph un funzionario la corruzione serve a far funzionare la macchina serve a evitare discorsi inutili a dare agli amministrati l'illusione di non aver omesso alcuno strumento a tutelare così la linearità dei procedimenti ma è assodato che in qualunque modo non si può raggiungere nulla è il il tema ripreso nel uno dei racconti più belli di Kafka davanti alla legge davvero fascinoso e suggestivo in cui il guardiano davanti a questa figura disperata che cerca in ogni modo di varcare le porte per arrivare alla legge dice accetto il tuo denaro ma lo accetto non perché serva a nulla lo accetto semplicemente perché tu non ritenga di aver trascurato alcun che corruzione che non serve non non mi dilungo ma mi pare davvero particolarmente significativo notate ho individuato cinque peccati cinque problemi enormi della pubblica amministrazione devo interrompermi non voglio sfiancarvi quindi facciamo la pausa e poi riprendo facendo qualche osservazione sulla situazione attuale magari qualche pregio se c'è magari qualche pregio ah ci arrivo ci arrivo bene mi posso chiedere una cortesia potete chiudere quella porta in alto alla mia destra alla vostra sinistra grazie adesso vediamo se il professor Mandelli riesce anche a indicarci qualche virtù però ci sono tante cose che si possono dire e comunque si indora la mia massima ammirazione per tutto quello che stai riuscendo con tanta chiarezza a illustrare e spero che solleciti tanta attenzione e soprattutto tanti interessi e curiosità per chi finora ha seguito due noiosi professori che spiegano tanto le regole i contenuti delle regole le strutture in astratto ma questo è il mondo che quelle regole dovrebbe governare cerco di essere sintetico perché vorrei sentire qualche vostra curiosità come avete visto diciamo i cinque peccati di cui abbiamo parlato che quindi hanno due secoli sono quelli di cui si parla costantemente nella nostra epoca i rapporti tra politica e amministrazione tema irrisolto che troverebbe nell'articolo 97 della Costituzione il suo punto di riferimento che ha poi nello scudo del quale è stato poi elaborato il principio di distinzione tra politica e amministrazione tra indirizzo e gestione con mille difficoltà nell'applicazione le riforme organizzative l'organizzazione è essenziale per fornire i servizi ai cittadini eppure è settore particolarmente trascurato e certamente lontano dall'efficienza tutto il piano rebourdain meriterebbe attenzione sulla complicazione è inutile parlare voi sapete che sono decenni che noi abbiamo leggi sulla semplificazione e ancora oggi non so se qualcuno ma c'è c'è un quotidiano che è particolarmente puntuale nel riportare lo stato di applicazione di singoli settori normativi che è il Sole 24 Ore che segnala che ogni volta ogni riforma pensiamo da ultima quella degli appalti è fatta da non so quante leggi che poi sono producono non so quanti decreti che poi sono accompagnati da non so quante linee di indirizzo da linee guida da cosiddette forme di soft law in un castello che non finisce mai insomma siamo indietrissimo ogni volta che si fa la fotografia dello stato di avanzamento e ormai le forme di semplificazione sono diventate una forma di complicazione pensate anche non so come viene applicata qui ma tutta la vicenda del dia scia e varie altre forme in cui l'unica cosa ad aumentare l'insicurezza del cittadino che non sa mai se è in regola o no l'oscurità del potere il potere inconoscibile il potere senza volto il potere lontano qui la 241 ha provato a introdurre la figura del responsabile del procedimento cui tra l'altro è dedicato un convegno tra pochi giorni ma ancora si fa molta fatica qui qualche passo avanti l'abbiamo fatto ma certamente i procedimenti si presentano spesso all'ottica all'occhio del cittadino come labirinti complessi l'amministrazione opprimente sopprocante l'amministrazione che in qualche modo lede i diritti e gli interessi dei cittadini beh qui c'è tutta un'elaborazione di meccanismi di tutela che dalla giurisdizione dalle varie forme di giurisdizione a forme che dovrebbero essere più snelle si parlava prima della difesa civica eccetera dovrebbero costruire un apparato di possibilità di reazione del cittadino abbastanza armato ma spesso questo apparato è comunque non semplice abbastanza costoso eccetera sulla corruzione vabbè le leggi anticorruzione sono ormai all'ordine del giorno abbiamo un'autorità specifica l'ANAC abbiamo regole internazionali europee e nazionali è un sistema complesso che dovrebbe penetrare in ogni amministrazione con il responsabile anticorruzione le notizie che ogni giorno vediamo non sono incoraggianti si rischia di aumentare la burocrazia senza ottenere il risultato sostanziale ma vediamo invece torno ai grandi della letteratura e vediamo una figura positiva che però ci dice anche molto sul ruolo della della pubblica amministrazione Franz Kafka ne ho già parlato più volte ma scusatemi è davvero un gigante un gigante tra l'altro di particolarissima attualità Kafka è un funzionario dell'istituto assicurazione di Praga con un ottimo giurista tra l'altro noi ne ne conosciamo sono state pubblicate in inglese ma anche in italiano le sue relazioni come funzionario lui inizia un'attività nuova nel momento in cui possiamo dire nasce lo stato sociale un accordo tra Prussia Bismarck e l'impero austro-ungarico a fronte dell'avanzata dei movimenti socialisti inventa costruisce una serie di misure sociali tra queste misure c'è l'obbligo per la prima volta delle imprese di assicurare i lavoratori in questo cambiamento radicale il giurista Kafka ha due funzioni primo emana elabora pareri argomenti giuridici per contrastare le tesi di quelle industrie settori di industria che non vogliono applicare la tutela dei lavoratori quindi frequente è la posizione di settori di impresa che dicono benissimo tutto bello però non si applica al mio settore perché abbiamo delle peculiarità eccetera e lui con solide argomentazioni giuridiche ha il compito di contrastare queste obiezioni la seconda funzione è quella di ispettore vale a dire lui malato fragile solo con i mezzi dell'epoca percorre la boemia per andare a verificare fabbrica per fabbrica se le nuove regole vengono rispettate gli orari i turni di lavoro le assicurazioni appunto e anche di questo lui lascia traccia e ci racconta ad esempio c'è un passo di grandissimo significato in cui lui arriva in un enorme capannone arriva da fuori il capannone è totalmente scuro non vede nulla ci mette un po' ad abituare gli occhi all'oscurità quando si sono abituati si accorge che ci sono dei banchi e dietro si muovono figure umane queste figure dunque è una fabbrica di tessitura queste figure sono normalmente femminili sono operaie le quali stanno dietro le macchine senza turni senza riposo mangiano attaccati alla macchina dormono lì e lui si commuove piange lo dice capite cos'è allora il senso dell'amministrazione senza amministrazione senza istituzione non ci sono diritti i diritti sono garantiti da regole e da qualcuno che le applichi e questo segna davvero il grande passaggio pian piano nasce e si afferma in tutta Europa lo stato sociale lo stato che cura e promuove i diritti dei cittadini e allora vedete come il fenomeno amministrazione diventa complesso l'amministrazione è piena di difetti di difetti che si presentano talvolta come endemici strutturali così difficili da affrontare non dico da risolvere ma l'amministrazione ci è indispensabile alludevo prima alla fantascienza e ai numerosi autori che vedono un futuro con un'amministrazione oppressiva o insidiosa condizionante ma c'è un altro scenario che ci presenta ad esempio il mondo della saga di Alien in Alien semplicemente non ci sono le istituzioni tutto è governato dagli interessi delle companies disponibilissime a mettere a repentaglio la stessa esistenza dell'umanità perché l'alieno come sapete ha una capacità distruttiva pressoché incontrollabile ma importare l'alieno ha un valore economico enorme e tutta la saga è condizionata da questa non c'è solo un'amministrazione che ha dei pericoli c'è un pericolo di non avere un'amministrazione mi fermo qui allora ragazzi al termine di questa lezione magistrale vi chiedo ovviamente se avete qualche considerazione di esporre siete due aule quest'anno da quello che sono e da quello che ho visto sperimentato non proprio molto reattive però qualcuno di voi potrebbe dinanzi a questa pure un po' innovativa in questo innovativo discorso è comunque più reale più concreto proporre qualche considerazione personale anche proporre una domanda quest'idea di un potere che vi è stato ecco bravissimo aspetta un attimo che le avvicino e il microfono sperando che non si come dire l'amministrazione di un po' allora ripacendomi alla parte in cui lei ha citato alcune saghe della fantascienza io le volevo chiedere secondo lei è possibile che l'amministrazione in un futuro sia plasmata non dagli alieni ma dalle macchine come invece succede nei libri per esempio di Isaac Asimov dove sono i robot a prendere il controllo e quindi a modificare e a creare possibili danni come anche possibili miglioramenti il tema è essenziale e non è affatto fantascientifico nel senso che è un problema che si sta già ponendo e non nel termine del robot che configura pare umana il tema è processi decisionali e algoritmi voi sapete che ormai molte decisioni molti processi nelle imprese nella globalizzazione ma anche pubblici sono fidati ad algoritmi ora i tecnici ci spiegano guardate che gli algoritmi attuali e sempre più in futuro sono ormai attrezzati per non applicare semplicemente i criteri che voi mettete nel computer ma li elaborano autoelaborano quindi e allora qui noi abbiamo un problema proprio nella definizione dei diritti molto pronunciato il problema che ad esempio in Francia si è posto in termini espliciti nei nostri termini e noi dovremmo sempre avere la garanzia che la decisione sia assunta da volontà che siano riconducibili agli organi politici o amministrativi che hanno la responsabilità per capirci un conto è se io devo distribuire un beneficio un beneficio ad anziani un beneficio a disabili un beneficio a giovani se ho un organo responsabile che fissa i criteri tot punti allo stato economico tot punti alla condizione fisica alla patologia tot punti all'età e poi ho un algoritmo che meccanicamente mi applica quei criteri quindi mi dà la lista e mi mette in fila l'anziano tizio l'anziano caio e un conto è e questo è il rischio che si sta ponendo se l'algoritmo adegua come si dice i criteri alla sua esperienza questo è un punto delicatissimo ripeto si sta già ponendo e quindi il tema che la fantascienza ci propone in termini diciamo immaginifici richiede è una grandissima attenzione che nel nostro caso dobbiamo proprio applicare rispetto alle responsabilità della politica e alla responsabilità della dirigenza l'algoritmo a mio avviso deve rimanere uno strumento totalmente controllabile da parte di questi due livelli ma il tema è di fondo allora risolvere ma è possibile risolvere appunto ovviamente l'embarco di diversi problemi dell'amministrazione ma è visto che comunque se c'è stato con un informe di risolvere io sono un ottimista costruttivo nel senso che ritengo che una buona parte dei problemi che ci troviamo quotidianamente sarebbe risolubile se davvero si volesse affrontare con gli strumenti giusti gli strumenti a mio avviso sono molto chiari e vanno in contrasto con una diciamo cultura diffusa che secondo me costituisce a monte il massimo impedimento per affrontare questi problemi vi cito soltanto due temi uno quello che gli americani chiamano il short termism le politiche a breve termine e questi problemi non si risolvono sul breve termine non si risolvono se non c'è una capacità di guardare un futuro lontano lontano e di coerentemente in questo lasso di tempo non breve si mantiene una coerenza negli obiettivi fissati tutte le nostre riforme guardate qui non faccio discorsi gli uni o gli altri eccetera sono state viziate dal fatto che il giorno dopo si cambiava idea si tornava al precedente si contestavano si cambiavano non lo so se poteva funzionare il titolo quinto beh io vi dico semplicemente una cosa che il titolo quinto non è mai stato attuato il titolo quinto presupponeva l'afficciazione dei livelli essenziali è stata fatta solo nella sanità su tutto il resto no il titolo quinto presupponeva i principi fondamentali delle materie concorrenti invece abbiamo fatto miriadi di leggi leggini vincoli vincoletti e così via il titolo quinto presupponeva una cornice finanziaria che è mancata totalmente quindi ma funzionava tutto è colpa sua non lo so non l'abbiamo sperimentato se il giorno dopo facciamo il contrario state sicuri che le riforme non funzionano lo stesso questa cosa alla legge del Rio dimenticata abbandonata il secondo aspetto strettamente collegato è le riforme non si fanno non si affrontano per capirci con i tweet non è così non funziona così non basta lanciare uno slogan per cambiare niente non cambia niente forse attirerai l'attenzione dei mezzi di comunicazione per quel giorno ma non pensare minimamente di cambiare il funzionamento dell'amministrazione se non con un'attenta applicazione attuazione le nostre riforme hanno dei buchi di se io faccio una riforma devo immediatamente capire e dire con quali risorse con quali risorse finanziarie con quali risorse umane quali competenze è inutile che io faccia le città metropolitane se contemporaneamente dimezzo quello che prima avevano le province e non le doto di funzioni adeguate e di apparati adeguati è inutile che io faccia la riforma degli appalti se non do alle stazioni appaltanti le competenze gli ingegneri i giuristi esperti in questa materia che siano in grado di gestirle questo a quanto pare interessa molto poco ma è a mio avviso lì che si giocherebbe la partita qualche altra sorrisitazione beh prego scusi la sento no sentite un po' la voce quanto le riforme le leggi oggi possono avere un'incidenza sulla società o in che misura poi diventino messo in mano al capitalismo volevo chiederle questo se le leggi oggi disciplinano la società possono pure dimersi in mano al capitalismo ed il capitalismo che effettivamente disciplina la ricerca viviamo ancora nell'indizione certatamente i poteri avete sentito in fondo dove sta il potere oggi i poteri pubblici non c'è dubbio hanno perso moltissimo hanno perso moltissimo per effetto di una globalizzazione non controllata hanno perso moltissimo perché si presentano frantumati voi sapete che ormai le grandi società amazon facebook eccetera eccetera hanno bilanci che superano di gran lunga i bilanci della maggior parte degli stati del mondo e quindi sono fragilissimi quei pochi stati che diciamo potrebbero contare sono peraltro totalmente divisi tra di loro con politiche proprio totalmente divaricate e ognuno attento ai propri micro interessi allora qui io vedo l'alternativa in una costruzione di un potere pubblico di grandi dimensioni che riesca a intervenire con qualche autorevolezza in queste dinamiche naturalmente in primo luogo penso all'Europa che è veramente il vaso di coccio di un mondo che ormai è dominato da grandissime potenze private e pubbliche e in cui gli staterelli nostri come i famosi polli di Renzo non fanno altro che litigare tra di loro e quindi io credo che non ci siano alternative se vogliamo contare nel mondo se vogliamo contribuire a fenomeni che altrimenti rischiano di sfuggire ad ogni controllo bisogna che nasca qualche nuovo potere pubblico di livello continentale dunque anzitutto notiamo una cosa che può essere forse un po' rimasta sullo sfondo in certa misura questi difetti appartengono a tutte le grandi organizzazioni pubbliche o private che siano se dall'ottica generalmente europea che ho adottato passiamo ad esempio agli Stati Uniti la attenzione sulla burocrazia quando si parla di burocrazia molto spesso si parla di burocrazia privata i romanzieri gli umoristi si dedicano a una burocrazia che è la burocrazia delle grandi compagnie d'altra parte non è un caso se il più popolare dei nostri personaggi burocratici fantossi non appartiene affatto alla pubblica amministrazione è un'organizzazione del tutto privata che però come vediamo dalle sue vicende presenta molte delle problematiche che ho citato il problema qual è? è che i due fenomeni settore pubblico e settore privato hanno degli obiettivi e delle ragioni d'essere del tutto diverse quindi il privato legittimamente persegue può perseguire scopi propri scopi di lucro dunque è un buon funzionario è un buon dirigente quello che persegue bene con efficacia manageriale questi scopi dal settore pubblico ci si attende qualcosa di molto di più e di diverso perché non ci si attende solo un prodotto ci si attende un perseguimento di un interesse della collettività che diventa primario e diventa la ragione stessa dell'esistenza dell'apparato non so se ho risposto a tutte perché la sua domanda poteva avere varie varie sfumature quindi anche da questo punto di vista credo che bisogna conoscere i problemi che presenta una grande organizzazione affrontarli con tutti gli strumenti che le tecniche attuali forniscono e cogliere la peculiarità fondamentale della pubblica amministrazione quindi la pubblica amministrazione deve usare tutti gli strumenti i vi compresi gli strumenti che sono fornite dalle tecniche privatistiche ma con quell'obiettivo imprescindibile bene vista buona lezione vista l'ora ragazzi cosa possiamo dire ringraziamo il professor Vandelli che raccontandoci quello che la letteratura fa a fantasia e a realtà ci ha descritto della pubblica amministrazione mi sembra poter dire che ha superato la nostra prova perché dietro l'apparente ingenuità dei contenuti delle domande che sono state rivolte mi sembra che i risenti che hanno parlato siano andati direttamente al fondo dei problemi di fondo e quindi evidentemente la prova è riuscita in apparenza parlando con un approccio tutto diverso riesce a sollecitare il vostro ragionamento bene a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti